Ciao a tutti e benvenuti su Bimbi Creativi. Oggi vi faccio vedere come realizzare questa super scheda che potete scaricare gratuitamente da www.bimbicreativi.it. Prima di farvi vedere come realizzare questo lavoretto vi ricordo di andare su Amazon, scrivere nella lentina di ricerca Irene Marzi libri e dare uno sguardo a tutti i miei libri. Quindi trovate Primavera, Primavera e Pasqua, Estate e tanti altri titoli. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al club di Bimbi Creativi. Vi lascerò qua sotto un link dove potrete scoprire tutti i vantaggi riservati agli iscritti. Veniamo ora alla nostra scheda. Questa è la versione a colori. Vi faccio vedere invece la versione in bianco e nero dove c'è solo il nido che è stato realizzato con questa tecnica che vi dicevo molto particolare. Cosa dovete fare? Dovete ritagliare la scheda. La scheda è formata da questi uccellini che dovrete colorare non solo nella parte davanti ma l'ala anche sul retro perché poi la parte che si piega. Quindi si ritagliano gli uccellini, si piega l'ala e questa parte qua va arrotolata con una matita. Ricordatevi anche di attaccare il becco e se volete renderlo un po' più simpatico potete anche con una penna o un pennarello fare una righina come ho fatto io per renderli più sorridenti e questo è il risultato finale dei nostri uccellini. Per fare il nido invece ho usato una tecnica che vi dicevo molto molto particolare. Il nido va prima di tutto colorato perché se no non riuscite più a utilizzare questa tecnica o meglio fate poi molta più fatica. Una volta colorato tagliate tutte le righe vedete queste queste righe vanno tutte tagliate e poi prendete della carta riciclata del colore che preferite. Io ho utilizzato della carta arancione e della carta blu. L'importante è che la carta sia della lunghezza riuscite a creare delle strisce lunghe almeno come il nostro nido. Poi cosa dovete fare? Allora prendete la prima striscia, la incollate sul retro e poi la passate da una parte all'altra quindi alzerete questa parte si alza si infila si alza si infila si alza si infila fino a creare questo effetto. Dopodiché si passa alla carta blu e si ripete la stessa operazione però dovrà essere nel senso non alternato non viene il termine insomma nell'altro senso per cui dove qui c'è l'arancione qua dovrà risultare bianco. Per risultare bianco semplicemente invece di partire da sotto partirete da sopra con la linea blu e farete la stessa operazione quindi alza, alza, abbassa, alza, abbassa, alza, abbassa. Ricordatevi di incollare la prima parte così la striscia resta ben salda e riuscite a fare tutto il lavoro del nostro nido e di alternare i colori così resta più divertente e più simpatico quello che state facendo anche se tecnicamente potete usare anche un unico colore. Una volta finito tutto questa parte qua andrà o chiusa quindi andrà incollata tutta la striscia che deciderete di usare sul finale oppure semplicemente prendete una striscia che vi è avanzata e la mettete sul retro. Ecco qua questo è il lavoretto che vi volevo proporre oggi a me piace moltissimo lo trovo molto molto originale e soprattutto perfetto per la primavera. Se vi piace la scheda vi ricordo di lasciare un like, di condividere con tutti e dare uno sguardo come vi dicevo al link qua sotto dove trovate tutti i vantaggi degli iscritti al club di Bimbi Creativi. La scheda invece la potete scaricare tutti gratuitamente andando su www.bimbicreativi.it. Vi ricordo infine i miei libri, Amazon scrivete Irene Marzi libri e basta. Per oggi è tutto vi ringrazio per essere state con me e ci vediamo con la prossima idea creativa. Ciao a tutti, ciao ciao!